Freddo, tanta pioggia, temperature basse. Queste le caratteristiche dal punto di vista meteorologico del mese appena trascorso. Iniziato con un freddo intenso e una nevicata prettamente invernale, il mese è proseguito con un clima di stampo piovoso fino al 21, quando si sono registrati 4 giorni di bel tempo. Complessivamente il marzo 2018 può essere annoverato, per quanto concerne il tempo, tra i peggiori degli ultimi 30 anni. Esaminando le temperature si può notare come le medie siano state da 0,5 gradi a 1 grado inferiori alla norma, con punte di freddo a inizio mese e tra il 19 e il 24. Le precipitazioni totali sono state abbondanti, soprattutto considerando la tendenza pluviometrica piuttosto scarsa che si registra normalmente a marzo. Sulle Dolomiti ha piovuto e nevicato quasi il doppio del consueto, con 13-18 giorni piovosi a fronte di 6-7 giorni normali. La neve in montagna è caduta di frequente, ma a quote medio-alte, con spessore del manto nevoso in costante aumento, che ha toccato anche i 2 metri in zone tra i 1700-1900 metri. Da segnalare infine due giorni di fine mese caratterizzati da precipitazioni particolarmente abbondanti, 94 e 67 mm, rispettivamente a Longarone e a Valle di Cadore.